non trovo più la via d'uscita, non so cosa fare, ormai siamo partiti in 8 e siamo rimasti in 5, cerchiamo di scappare, cerchiamo di trovare la via d'uscita ma niente, ora restano veramente speranze, poco alto qui ne, siamo in una merda, per favore spingati per favore basta, non ce la faccio, basta, basta oh no, guarda lì in fondo cosa c'è? cosa? guardala non vedo nulla guardala in fondo